ciao gente di youtube benvenuti in questo nuovo video sono di nuovo io simo briggs e che altro può essere ma a parte i dettagli oggi nuovi acquisti 1 e 2 allora iniziando subito da lego minecraft la fattoria lo in realtà è più un orto con la fattoria è molto carino 32 euro e c'è anche un delle istruzioni con cui potete fare un vostro modello più avanti fare una recensione dettagliata ora passiamo all'altro set lego city starter set vulcano esplorato del vulcano nuovo pezzo questo che si apre di lato lava tipo una lava bomb questo è un piccolo giocherellino con tipo un mini vulcano che che fa volare in aria dei pezzi di lava e di diamanti carino un'idea carina quattro minifigure un piccolo quad per 10 euro è un buon prezzo include anche degli utensili veramente molto utili una macchina fotografica un piccone un questo potrebbe essere un releva mine tutte le minifigure anzi quelle due minifigure che stanno esplorando diciamo così la materia proprio bella calorosa hanno una maschera con l'ossigeno insomma beh in teoria dovrebbe rappresentare una sottospecie di una sottospecie di tuta antiradiazioni che proteggerà il calore ma in realtà la lego ha fatto una roba un po così essendo uno starter set non credo che insomma va bene così ecco un fotografo che in realtà non capisco bene cosa potrebbe servire poi abbiamo una scienziata con un bel diamante e niente questo non lo posso aprire perché in pratica è un regalo di per mio cugina quindi lo vedete faccio ho fatto la recensione solo in questa forma e nient'altro insomma se se c'è altro da dire lo dirò più avanti magari con con un piccolo extra beh direi perché questo video è tutto anche perché qui l'aria inizia essere bella disturbata e ciao alla prossima iscriviti al canale e viva la lego